La rivoluzione dell'organico del Pescara, prevista con la prossima sessione di mercato, tocca anche la parte dirigenziale. Dopo due anni potrebbe infatti lasciare il direttore sportivo Luca Leone. Con le dimissioni già arrivate da Peppino Pavone dopo l'esonero di Zeman, ecco che lo staff direttoriale di questo biegno sarebbe azzerato. La casella di Pavone era stata già colmata da Giorgio Repetto, il cui avvento inizialmente era servito per affiancare Massimo Epifani, allora promosso da tecnico della primavera a quello della prima squadra. Repetto poi è stato determinante quando ha avuto l'intuizione Bepi Pillon, una mossa che ha salvato la Serie B del Delfino. Ecco perché la coppia Repetto-Pillon, entrambi in scadenza di contratto, va verso il prolungamento dell'accordo e sarà l'asse con il quale il presidente Daniele Sebastiani potrà ricostruire la squadra. Resterebbe a quel punto da colmare l'eventuale vuoto lasciato da Leone. Due sono i profili principali, Antonio Bocchetti e Filippo Antonelli. Più defilato quello del DS del Foggia, Luca Nember, che è sempre più vicino alla conferma tra i satanelli. C'è stato un momento nei mesi scorsi in cui Nember sembrava sul punto di lasciare, ma dopo il buon finale di stagione la proprietà foggiana sarebbe pronta a proporre un rinnovo del contratto. Filippo Antonelli ha iniziato il lavoro dietro la scrivania alla Propatria e dopo un anno, nel 2015, è diventato DS del Monza in Serie D. Ed ha portato avanti un ottimo lavoro con la vittoria del campionato nel 2017 e un bel quarto posto in Serie C nel Girone A quest'anno. Per Antonelli si tratterebbe di un ritorno a casa, ma il DS del Monza ha ammercato, specie al nord, ed anche l'appena retrocesso Verona ha sondato il dirigente abruzzese. E allora in pole position sembra essere Antonio Bocchetti, già difensore del Pescara dal 2011 al 2014, napoletano di nascita, da quando si è ritirato e diventato coordinatore dell'area tecnica della Paganese, ultimo club nel quale ha giocato, ma ha continuato ad avere rapporti cordiali e assidui con il presidente Sebastiani. Lo scorso anno è stato anche vicino all'incarico di DS del Teramo. In attesa di ulteriori sviluppi, il Delfino ha già portato a termine una operazione con l'acquisizione del giovane difensore classe 97 Alessandro Celli in scadenza con la Fidelissandria. Trattative avanzate proprio con il Monza per due esterni d'attacco classe 92, Luca Giudici e Andrea Del Rico.